Benvenuti ragazzi a questo nuovo video tutorial dove vi spiegherò come andare ad aggiungere un flare alle vostre immagini, proprio in questo modo. Ci sono tantissimi obiettivi che puntano proprio al togliere il flare dalle foto, ma a me piace molto avere il raggio del sole che lascia la scia nella lente attraverso l'immagine. Infatti quando vado a fare delle foto verso l'ora del tramonto cerco sempre di avere il sole nel mio frame. Queste sono foto con i flare in camera fatte con una Fujifilm X100S e poi sprodotte con i nostri preset della preset collection che trovate in vendita nella descrizione del video. In questo video voglio spiegarvi come crearne uno direttamente in una foto dove non abbiamo un flare. Il flare come ho detto prima viene generato dal sole che punta sul nostro obiettivo lasciando proprio la scia. Ora senza fare niente io posso andare su filtro rendering riflesso obiettivo e mi viene proprio appunto questo filtro in Photoshop con cui posso replicare un flare nella mia immagine. Posso aumentarne la luminosità e posso anche cambiare il tipo di obiettivo per esempio uno zoom, un fisso, un fisso 105, un obiettivo videocamera. Perché ovviamente la qualità del flare e la forma del flare dipendono dall'obiettivo e dalle lenti che state usando nella vostra macchina. Ora io utilizzerò semplicemente il 50-300. Vado a posizionare il mio flare in alto a sinistra per esempio in questa porzione qua del cielo aumentando un pochino la luminosità del flare diciamo a 130. Ok. E mi viene una cosa del genere. Ora il problema di questo filtro è che io non posso andare a modificare il colore oppure la forma del flare. Se io volessi togliere questi puntini qui per esempio che non li voglio oppure andarlo a sfocare non posso farlo perché ovviamente è applicato alla mia foto. Quindi io faccio semplicemente CTRL Z una volta che ho applicato il filtro nella posizione che voglio io e vado semplicemente a creare un nuovo livello vuoto cliccando su questo tasto qua che è il secondo da destro oppure il penultimo questo quadratino qui e mi crea questo nuovo livello che io chiamerò flare. Come ho fatto nello scorso tutorial ora vado a riempire questo livello di nero quindi il nero è il mio colore primario faccio alt cance. Ok. E mi riempi tutto il livello di nero. Se non vi riesce a farlo con i tasti come ho fatto io ora basta fare modifica riempi e andare a riempire il contenuto di nero. Ok. Ora che ho il mio livello nero selezionato con flare vado a fare filtro e se ci fate caso qua su in cima la prima voce sotto filtro è l'ultimo filtro che ho utilizzato ovvero il riflesso obiettivo. Se io ci clicco sopra oppure faccio CTRL F come è anche scritto nel video mi applica il filtro con le stesse impostazioni che ho usato l'ultima volta l'ultimo filtro con le ultime impostazioni. Quindi faccio CTRL F e mi viene il flare su questo livello nero. Non mi resta che cambiare il metodo di fusione da normale a scolora per avere il flare nella mia immagine come ho fatto prima. L'unica differenza è che ora io posso andare a spostare questo livello quindi muovere il flare in questo modo oppure posso andare a diminuirne l'opacità. Ora io voglio andare a cambiare il colore di questo flare quindi faccio un nuovo livello tonalità saturazione e vado a fare clic tenendo premuto alt tra il livello flare e il livello di regolazione che ho appena creato. In questo modo mi applicherà questa modifica soltanto al livello flare. Vado a spostare la tonalità fino a che non ho un colore che mi piace. In questo caso lo voglio sul giallognolo quindi diciamo così arancioncino perché no. Magari alzo anche un pochino la saturazione. Ora voglio aggiungere un altro livello di regolazione lo aggiungo curve sempre tenendo premuto alto lo applico anche questo solo al flare e vado ad abbassare un po' e aumentare un po' il contrasto nel flare in questo modo. Guardate la differenza tra prima e dopo. Questo è prima del colore e questo è dopo il colore. Ultima cosa che voglio fare è andare a sfocare un po' il tutto quindi seleziono il mio livello flare e vado su filtro sfocatura controllo sfocatura e vado a sfocarlo di un pochino tanto per non avere bordi proprio netti. Ok così. Posso anche andare ad aggiungere per esempio una maschera di livello per non lo so togliere questi qui se non li voglio con un pennello nero sulla maschera bianca e avete visto come in pochissimo tempo siamo riusciti a creare un flare da un'immagine di questo tipo andando ad aggiungere il flare andando poi a cambiare il colore e ad aggiungere un po' di luminosità e un po' di contrasto nelle curve. Ora se vi interessa molto questa cosa dei flare c'è un plugin fenomenale per photoshop per fare appunto i flare si chiama No Light Factory e lo fa la Red Giant Software. Costa abbastanza mi sembra credo sui 200 dollari o una cosa del genere però ve lo fanno scaricare e provare per 30 giorni e praticamente funziona. in questo modo abbiamo tantissimi preset già costruiti per i flare sono tantissimi i flare del genere delle cose allucinanti anche ce ne sono di tutti i tipi possiamo anche crearlo random ora non so se vedete il sotto ecco ora magari vedete anche il sotto posso anche caricare nuovi preset crearmeli io salvarli posso andare a creare un elemento io cancellando questi elementi qui e poi andarmi a creare il mio flare aggiungendo le luci le strisce insomma una cosa del genere oppure posso utilizzarne uno già dei preset e magari fare random per cambiare un pochino e farmelo fare automaticamente dal programma a random ma insomma ce ne sono tantissimi decine e decine anche tipo questo palla qua che dovrebbe essere il sole potete regolarne la luminosità la scala e tutto anche questo utilizzatelo su un livello nero come abbiamo fatto prima infatti se io faccio semplicemente ho per esempio l'85 mm che è il secondo secondo me è uno di quelli migliori anche questo se io vado semplicemente a fare ok mi viene applicato come è successo prima con photoshop a livello sfondo quindi anche qui vado a fare ctrl z per annullare il flare vado a creare un nuovo livello lo riempio di nero come ho fatto prima vado a fare filtro e ora in cima ho no light factory così almeno se faccio clic mi viene applicato direttamente il filtro al mio livello nero e posso andare a fare scolora questo lo cancello e vado ad applicare queste due regolazioni ho creato prima magari cambiando il colore sul giallognolo in questo modo nella finestra del programma di prima possiamo anche andare a togliere singolarmente i vari pezzettini vi faccio vedere per esempio se io ho il mio livello questo qui vado a fare filtro questo è il mio flare io posso andare a rimuovere da questi qui sono gli elementi che compongono il flare le per esempio le stelline che sono queste oppure le strisce che sono queste insomma andare a togliere un po di elementi fino a che non mi rimane solo per esempio la sfera luminosa insomma questo programma vi dà una grande varietà di utilizzo del del flare poi ovviamente potete spostarlo come abbiamo fatto prima io vi ringrazio per aver visto anche questo video tutorial spero vi sia piaciuto spero vi serva per i vostri futuri editing se siete interessati alla nostra preset collection dove ci sono 33 preset da applicare in lightroom e in camera raw alle vostre foto trovate tutti i link con i dettagli nella descrizione del video e sulla nostra pagina facebook attualmente a tutti quelle che la comprano viene dato anche un bonus kit per la preset collection appunto con altri preset che vanno a toccare la grana gli iso la nitidezza la vignettatura per andare a modificare le vostre foto ancora con più facilità e in minor tempo io vi ringrazio per aver visto questo video sono Niccolò ci vediamo al prossimo tutorial ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti